No alle centrali nucleari, a Silopi, in Turchia, in Italia, nel mondo. Esistono altre forme di energie alternative, quindi diciamo no alle centrali nucleari di tutto il mondo. Viva Cernac e viva Silopi! No centrali nucleari, viva Silopi! Viva Cernac, per il futuro di tutti i nostri bambini. Viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! Non vogliamo centrali nucleari, viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! Viva Kurdistan, viva Silopi! No centrali nucleari, viva Silopi! Non bisogna fare la centrale nucleare a Silopi perché non bisogna fare le centrali nucleari, perché sono pericolose e dobbiamo assolutamente sviluppare le energie alternative. Non alla centrale nucleare, viva Silopi! Viva Silopi! Herbici! Non vogliamo una centrale nucleare a Silopi. Herbici Silopi! Viva Silopi! Videonun çekilme amacı, kesinlikle Sernac Silopideki termik santraller değil, dünyanın her yerinde yapılan termik santrallere karşı, bütün çocukların hayatı bu şekilde tehlikeye gidiyor. Bizim bunların karşısında bir mücadele sergilememiz gerekiyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için alternatif enerjiler var, bunlardan faydalanabiliriz. Non voglio il centro nucleare in Silopi! No, la centrale nucleare, viva Silopi! Viva Silopi! Non vogliamo il centro nucleare a Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! No centrali nucleari, viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! No centrali nucleari, viva Silopi! Io non voglio che si faccia la centrale nucleare a Silopi e in nessun'altra parte del mondo, perché distrugge la vita. Viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! No alla centrale nucleare, viva Silopi! No alla centrale nucleare, viva Silopi! No centrali nucleari, viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! Viva Silopi! Non vogliamo la centrale nucleare, viva Silopi! Ma vogliamo la centrale a Silopi! No! No alle centrali nucleari, viva Silopi! No alla centrale nucleare, viva Silopi! Non vogliamo il centro nucleare, viva Silopi! Viva Silopi! No, la centrale nucleare viva Silopi. No, non vivo. Vive Silopi.